All'interno delle linee programmatiche dell'amministrazione è appunto prevista la costituzione della consulta dei giovani per dare spazio ai giovani clusonesi, proprio perché riteniamo sia una risorsa e soprattutto perché si possa ovviare a determinate problematiche che il mondo giovanile sta attraversando. Siamo a buon punto, in quanto nel prossimo Consiglio Comunale verrà presentato lo Statuto che verrà messo ai voti e il passaggio dopo l'approvazione del Consiglio Comunale sarà quello di invitare tutti i giovani del Comune di Presidente e del Comune di Clusone ad iscriversi a questa consulta e successivamente ci sarà la prima riunione dell'Assemblea e quindi la consulta finalmente avrà vita, avrà inizio. Cosa si intende per giovani? Qual è la fascia d'età considerata? La fascia d'età pensata sinora, poi non è ancora definitiva, la stiamo comunque definendo, è quella che va tra i 16 e i 32 anni. Questo bene o male è il requisito fondamentale per prendere parte la consulta. Come funzionerà e di che cosa si occuperà la consulta? La consulta è l'organo consultivo dell'amministrazione comunale in tema di giovani, per cui sarà il tramite con l'amministrazione del mondo giovanile. All'interno della consulta verranno trattati svariati temi, svariati argomenti, quindi la consulta si occuperà di sport, di cultura, di turismo, di informazione, di problemi sociali, di problemi legati appunto soprattutto in ragione del mondo giovanile. Quindi qualsiasi tematica questa consulta ritiene di poter affrontare avrà spazio libero per poterlo fare. Qualche esempio? Qualche esempio. Verranno istituiti dei tavoli di lavoro nei quali ad esempio si era pensato di poter affidare loro una possibile apertura della biblioteca negli orari in cui la nostra biblioteca è chiusa. Ad esempio la gestione del sito internet, per quanto riguarda soprattutto l'aspetto turistico, l'aspetto di promozione del nostro territorio e tutti gli aspetti più tecnologici che sono un po' più tipici dei giovani, quindi che i giovani possono trattare meglio rispetto magari agli adulti che sono un po' meno avvezzere le nuove tecnologie. Ad esempio l'altra cosa potrebbe essere quella di organizzare dibattiti, convegni, affrontare problematiche da un punto di vista, da qualsiasi punto di vista, problematiche legate al mondo giovanile. C'è già una sede? La sede per ora è stata pensata la nuova sala ragazzi, tra l'altro stupenda, della nostra biblioteca. In futuro l'idea sarebbe quella di creare degli spazi, di costruire degli spazi appositi perché la consulta e poi non solo la consulta ma anche altre associazioni si possano riunire e possano operare perché questa ovviamente ci rendiamo conto. Buona l'idea della consulta dei giovani, però dobbiamo dare anche loro spazi e risorse per poter operare. Quindi in futuro potrebbe essere ad esempio che dal programma integrato Mirage possano derivare degli spazi entro i quali la consulta possa operare.